Anche Daniele De Rossi sarebbe stato presente al derby tra Roma e Lazio di domenica scorsa. Incredibile ma vero, pensate che lui l'ex capitano si sarebbe ritrovato in curva laterale con tanto di bandiere in mano. Però incognito, infatti, De Rossi sarebbe giunto allo stadio olimpico accompagnato dal buon Valerio Mastrandrea, il famoso attore romano doc. Però non è stato possibile per nessuno riconoscerlo, perché vi starete chiedendo giustamente in quanto De Rossi si sarebbe sottoposto ad una lunga seduta di trucco per rendersi non riconoscibile e per vedere, come ha spesso dichiarato in passato, la sua amata, amalissima Roma proprio dalla curva sud. Quindi in pratica il buon De Rossi sarebbe apparso mascherato in curva sud allo stadio olimpico di Roma, incognito quindi con il simpatico e bravissimo Valerio Mastrandrea, il famoso attore romano per eccellenza. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Iscrivetevi, si va. Commentate al prossimo video da Albro, Barato Italiano. Grazie a tutti.